Anche in questa puntata andremo a vedere un bel po' di anime, come sempre come vi ho detto anche all'inizio del video Consigliatemi qui sotto degli anime che volete che necessiscono nei vari daily vlog E a parte questo ovviamente l'obiettivo è sempre 1000 like Il gioco sta arrivando al termine quindi ancora un paio di episodi e poi arriveremo probabilmente alla fine di questo gioco In ogni caso se volete ancora supportare la serie lasciate un bel like mi raccomando Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata qui su Tube Tycoon Un puntata numero, non lo so, credo sia 16, però, ehi, alzo le mani al cielo Non so che cosa sto facendo, tranne una Genkidama, presumo Genkidama, non so come si dica in realtà Bella domanda, comunque a parte questo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Siamo a 185.000 iscritti, 52.000 dollari da sprecare con chissà che cosa, non lo so E qualcuno mi ha consigliato un nuovo manga, cioè un nuovo manga, in realtà c'è manga e anima Quindi sì, stessa cosa, quindi un nuovo anime di cui parlare Che faremo subito oggi nel, non questo, nel daily vlog Che è in sostanza Fairy Tail Mi hai detto, ah è Lulis, ma dici cosa ne pensi di Fairy Tail? Ho scritto bene Fairy Tail? Sì, 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 ok, Fairy Tail Allora, Fairy Tail è un anime che ho seguito per un motivo solo Al tempo facevo parte di Fairy Tail fan sub Nel senso che ho partecipato come traduttore per un mesetto, due mesetti in realtà E quando ho fatto, diciamo, il fan sub lì Ho visto anche tutta la stagione, tutte le stagioni di Fairy Tail Beh, da lì mi sono emozionato a vedere Fairy Tail Però il problema è che Fairy Tail ha un piccolo piccolo problemuccio di fondo Che poi in realtà non è un piccolo problema, ma è un grande problema Ovvero, ha delle parti interessanti e delle parti molto molto noiose Infatti, io divido l'anime in parti interessanti e parti noiose Per esempio, ci sono molte missioni che sono noiosissime I combattimenti sono fatti bene, ma alcune parti sono noiose Per esempio, ho lasciato l'edizione del 2015, per esempio, 2014 Non ricordo quando è iniziato di nuovo Fairy Tail Perché hanno fatto due stagioni in realtà, anche se sono le stesse in sostanza E tipo io ho iniziato a vedere tutta la... La parte l'ho vista tutta Alla seconda parte ho tipo bloccato il mio pensiero Sul fatto che non poteva andare avanti così E poi ogni episodio era un po' così così Era un po' me Però ci sono comunque sempre degli aspetti positivi e negativi di questo anime E per il momento io l'ho stoppato Nel senso che non lo sto guardando Probabilmente fra un po' lo inizierò E tornerò quindi a vedere di nuovo la saga del combattimento dell'arena Però ho detto, ma la luce si vede bene? Non lo so, in realtà ora me la sono puntata in faccia Quindi, grande Controlliamo se si vede bene Eh, si, leggermente i miei capelli sono tutti così così Perché, perché si Diventano ricci quando li lavo col balsamo Maledizione Comunque, a parte questo ragazzi Farete il tanta roba Mezzo milione di visite What the fuck, davvero Mezzo milione di visite Siamo felicissimi 3.000 commenti La gente è ormai It's mine Cioè ormai la gente è tutta per me E voglio quel fottuto milione di iscritti ragazzi miei Ok, poi Andiamo a registrare i nostri tre episodi normali sciagli Tra cui Morio CS Stop e Diabodo 3 Ricordiamoci che sono sempre dei episodi tranquilli E probabilmente Diabolo finirà tipo verso l'episodio 20 Così potiamo dare occasione ad altri giochi di poter essere sbloccati Rimani fatto ragazzi che Morio fa le foto dei visite E' uno dei giochi tipo sul mio canale che continua ad essere ancora figo Ma si è proprio stronzo ragazzi Ah, lo stesso creatore del gioco ragazzi Perché Mr. Bionicle È il creatore del gioco Mi ha levato gli iscritti con le raccomandazioni sbagliate Fai schifo Il gioco è bello però fai schifo Non si fa Comunque A parte questo dobbiamo continuare a fare altri basic vlog E continuerei a vedere Ah io ho proposto C'ho un po' di tag Perché non le faccio? C'ho tipo price tag Cosa farei se molessi domani C'ho tantissima roba Ma perché non va bene? Price tag per esempio Una delle cose interessanti dei price tag Credo sia sul prezzo di alcune cose che sono buone oppure no Per esempio Le Dorisos fan cagare Anche se costano un fotteo di soldi Le Pringles costano così così Ma sono buonissime Credo le Pringles hanno un gusto che Nessuna patatina potrà mai avere Effettivamente Che io le adoro Ed è così Poi non so A voi la scelta Mi piace un botto Quindi ci sta sinceramente E' una buona cosa Seconda giornata di questo nuovo video E parleremo di un altro anime Che è Aono Exorcist Ok Storcist Che è un anime che Quando l'ho visto Ho fatto What the fuck Bellissimo Bellissimo Soprattutto questa volta Parliamo del movie Ok perché credo di averlo già Ne avevo già parlato Dell'anime Almeno Non me lo ricordo perché in realtà Non li scrivo da qualche parte Dovrei farlo Lo so Raga lo so Però non ho un pensiero Che mi dica Oddio l'ho fatto già Lo so Va bene E Aono Exorcist Molto carino Soprattutto del film Perché ha dato vita A uno dei personaggi Che io adoro di più Che è anche poi Infine il personaggio Che ho avuto come Icona del canale Per un bel po' di tempo Non ricordo il suo nome Perché attualmente L'avevo usato da qualche parte Con il nome Però non me lo ricordo Ve lo giuro Ed è un bellissimo film Dura tipo Credo un'oretta E ve lo consiglio Se avete visto Anche la stagione normale Perché effettivamente È un anime Che merita abbastanza Cioè la trama È un po' A me Perché comunque È abbastanza rivista Ma Ha degli aspetti Abbastanza carini Che sicuramente Vi potrebbero piacere Quindi ve lo consiglio Se volete ragazzi È un bell'anime È un bell'anime davvero Ok Allora dicevamo Dobbiamo farci altre puntate Qui di Morio Morio probabilmente Lo stopperemo di nuovo Perché ovviamente ragazzi Era soltanto un test Per vedere Se effettivamente Funzionava bene O non funzionava bene Ed effettivamente Fa le visual Che manco Manco ti immagini Cioè va troppe visite Sicuramente per essere un gioco Che la fin fine Noi facciamo senza Parlare Perché effettivamente È un let's play Puro e standard Ma cioè Più che un let's play Direi che è più un walkthrough Senza parlare E stranamente però Fa le visual Enormi Anche se Eh C'è se stop Stavolta Stanno da grande Vediamo un po' Uh Che figo Però niente 100.000 100.000 100.000 Cioè Dai Siamo con 100.000 iscritti Tanta roba Nuovo tag Nuovo tag Ragazzi miei Cosa farei se domani morissi Eh Oh Fare quello che ho fatto oggi Probabilmente perché a me piace Vivere così Ho già dato in altri video Però Magari se siete nuovi Non lo sapete Ci sta 313 video nella nostra carriera E abbiamo 200.000 iscritti What the fuck youtube Mi sa che si è bugato Nella vita reale Perché qui funzioni troppo bene Cioè Questa cosa È impossibile Ma Ci sta Ci sta Credo che posso comprare Tranquillamente Il brotherhood Bene E Questa volta però Voglio andare su Qualcosa dire Cioè Lack 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 Vole andare con il luck Che magari Ci dà più Possibilità di avere Tipo Dei raccomandazioni Perché davvero Ci sta Anche se vorrei più raccomandazioni Quindi prossima volta Andiamo con le random Bam A random Già presa la prima raccomandazione Ci sta Ci sta Grande Piccolo amico Chiamato chocolate milk Wow Sei una bevanda Probabilmente Sì Un youtuber bevanda Va bene Quando non hai bisogno di sponsor E la cioccolata È il tuo unico desiderio Va bene Ok Due anime fatti Ne ho presi 4 Credo che basteranno Per questa puntata Prossimone Bleach Ora Per chi mi dice che Bleach È un anime di merda Disiscrivetevi al canale Perché effettivamente Tu non capisci nulla di anime È l'anime per eccellenza Per quanto riguarda Gli anime mainstream Credo che sia l'anime Perfetto Per chi cerca Un anime mainstream Perché Combattimenti fatti benissimo La storia Interessante Con qualche buco Ma Ehi È un anime È un anime Non dirò mai Bene È un anime Mainstream E sì Questa parte Non la taglierò Ovviamente L'anime mainstream Ed è molto carino Ha comunque dei buchi Nella storia Perché ovviamente Tutti gli anime Ci li hanno così Anche vedi Naruto Vedi Dragon Ball Il Dragon Ball è proprio L'emblea Però è vent'anni fa Che è stato creato Effettivamente I buchi È normale che ci fossero Perché non sapevano ancora Come funzionavano Gli anime mainstream Però è uno di quegli anime Che ti lascia Incollato alla tv Io l'ho visto tipo In una settimana e mezza Tutte le stagioni Tutte i capitoli Che sono fatti In sostanza Ho saltato solamente i filler Perché i filler Li trovo inutili Se guardi un anime mainstream Lo faccio anche con Qualsiasi anime Che guardo Che sia Naruto Che sia One Piece Che sia Bleach Filler Via Sono inutili Sono piacevoli per la storia Qualche volta sì Qualche volta no Probabilmente la maggior parte Le volte no Quindi non guardate i filler E dite alla gente Smettetela di fare 18 milioni di episodi Di filler di Naruto Perché io voglio vedere Come finisce quella Maledetta guerra Che oh mio dio L'ho vista nell'anime No Nel gioco sì Perché l'ho finita nel gioco E non nell'anime Chi lo sa A parte questo Comunque sono ferite L'ha fatto davvero Un botto di visite Solamente non so perché Con questo casico A random Ogni tanto se ne esce BAM Ha fatto più visite del solito Vabbè ci può stare Come va in realtà Il brotherhood Uh altro brotherhood Time Fame Di nuovo Ammonto Ok Non so se l'ho fatto Ammonto già Però facciamo di nuovo Quindi avremo più raccomandazioni Yeah Yeah Più roba ragazzi Più viewers Più viewers Vogliamo essere Big youtuber E credo che dovrei fare Ok no 18 Allora domani Dovremo fare l'ultima puntata Di Morio E l'ultima puntata Di Diabolo Quindi Teniamoci conto ragazzi Che stiamo per finire Due delle serie sul canale Morio poveretta È stata ripresa È stata buttata Ripresa Buttata Ripresa Povero Morio Morio preghiamo per te Speriamo che un giorno Qualche youtuber Ti buon cuore Ti possa portare A termine Senza lasciarti Per un po' di tempo Riprendersi dopo un po' Cose del genere Comunque E va bene Le raccomandazioni funzionano bene Ragazzi Vedete adesso va molto meglio Abbiamo quasi 250.000 iscritti E ci sta L'ultimo video Dovremo fare Credo che andrò per un basic vlog Bluejack Bluejack Dai ci sta E credo di non avere Nessun'altra tag Perché ho finite Non me ne date altre Quindi Per forza così Dovremo contentarmi Non ho nient'altro Probabilmente Che servirà qualcosa Non credo Comunque 70 giorni Ragazzi Sono tanti Sono tanti Cioè Effettivamente Stiamo quasi raggiungendo La fine della serie Lo so Lo sapete anche voi Ragazzi lo sappiamo Abbiamo un punto Da distribuire Ne siamo un altro Perché devo farmi E game for fun E poi l'exclusive game Ricordiamoci Ragazzi Per quello Siamo andando avanti Però ci sta Ci sta Uh Grande Grande Giornata Giornata di riposo Pompuri oggi Nuova cosa Vediamo Uh Question They never ask Le domande a cui Nessuno risponde O domande a cui Non rispondono In sostanza Però Abbiamo parlato Dell'ultimo anime Di questa giornata Abbiamo parlato Quindi facciamo un riepilego Fairy Tail Aono Exorcist Il film Abbiamo parlato Di Bleach Che è un anime Fantastico Parliamo ora Di un anime Che nessuno conoscerà Tutti conoscono Zao Nessuno conosce Lui Ok E ora Qualcuno che lo conosca Mi dica sotto nei commenti Che dico la verità Log Horizon Ok Si legge così Log Horizon È un anime Che parla Di Ciò che succede Se magari Delle persone Vengono bloccate In un gioco Voi direte Ah Trama innovativa 1 1 1 Punto punto Ehi anche Sao è così Il punto è che Log Horizon È uno di quegli anime Che per la prima volta Guarda più l'aspetto Economico L'aspetto Sociale E non l'aspetto Combattimento E basta Cioè in Sao Vedete combattimenti 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 Solo quelli E ovviamente anche Tipo Asuna Che fa Ah no Non toccarmi Kirito Kirito Ehi Vado con altre donne Che se ne frega E cose del genere Mentre in logo Horizon Vedi Tipo Ragazzi adesso Non vi ricordo il nome Oh mio dio Non ricorderò mai Il nome del protagonista In questo momento Comunque C'è questo protagonista Che riesce a gestire Con la Ah Shiroi Shiroi Ecco Shiroi Con la sua Intelligenza Ragazzi Shiroi O Shiroi No non so Shiroi Comunque Se c'è con la sua Intelligenza Ragazzi Riaccia a gestire Addirittura il business Dell'intero mondo Perché effettivamente Bisogna raccattare i soldi Funziona come il gioco normale Solo che ci sono adesso Dei giocatori Veri e propri E quindi Non è che il mondo Finisce lì E cambia tutto L'improvviso Come se fosse un gioco nuovo No il gioco rimane lo stesso Probabilmente che loro Possono morire Quindi tanta tanta Di quella roba Ragazzi che mancano Immaginate Poi gente Che diventa Che Dempisi Diventa giocatore Normale Avventuriero Quindi bordello Lograiso Ve lo consiglio È un po' lentuccio Lo so Ma è un anime Che merita Davvero un sacco E che molti Non cagano di striscio Guardatelo 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 Mi raccomando ragazzi Comunque in teoria Oggi finivano i giochi Stavamo dicendo Quindi facciamo Ultima puntata di Morio Ragazzi Addio Morio È stato bello Incontrarti E averti con me È stato bello Comunque Anche tu Diabolo Ultima puntata Oddio no Diabolo Oddio E la puntata 19 E la puntata 20 Vabbè Io ti concludo Comunque Ti concludo Sinceramente Facciamo finta Che sia la puntata 20 Ragazzi E poi niente L'ultimo gioco Ad era per CS Stop Quindi dovremmo aver completato Questa roba Tranquillamente L'ultimi editing Tutto quanto Ormai le visite Le facciamo davvero Tranquillamente Quindi non abbiamo Nessun problema Da quel punto di vista E siamo davvero Messi molto molto bene Comunque In termini di iscrizioni E di collaborazioni Collaborazioni non le facciamo Perché facciamo sempre I video da soli Poi non so se le fa Tipo in qualche modo Vabbè Questo non era l'ultimo video In realtà Quindi va bene Avete un bel po' di visite Dobbiamo scegliere Due nuove serie Da portare sul canale E io andrei a scegliere Effettivamente Uh Xmine Revenge The Best Xmine Tube Tycoon Land Tube Star Ragazzi I nostri giochi I nostri fotutti giochi Ci stanno Io andrei con Gli ultimi giochi di questa due Che sono In sostanza Left 4 Life Che sarebbe Left 4 Dead E poi l'ultimo gioco Che rimane Probabilmente sarà Vediamo un po' Vediamo un po' qua Abbiamo finito questi giochi Abbiamo finito Torch Dark Ok che sarebbe Probabilmente come si chiama L'altro gioco tipo Diabolo Ok che Non ricordo come si chiama In realtà Non me lo ricordo ragazzi E che volete Non c'ho una memoria Di merda Non ricordo manco Cosa ho mangiato Poi l'ultimo Stamattina Nulla Giusto per chi Sto chiedendo E va bene Abbiamo qui il nostro Bellissimo Fantastico Let's Play Finito di tutti e due Giochi Abbiamo tutte le esperienze Vediamo un attimo Se abbiamo sblocato qualcosa Uh raga Ma qua Qua fa proprio cattiveria Vai energia Energia manetta C'è energia più che altro Esperienza manetta Vai Grande roba Grande roba Andiamo a nanna Andiamo a nanna direi Perfetto E abbiamo tempo Per un ultimo gioco Daily vlog Ringraziamo i 250.000 iscritti Anche se in realtà Dovremmo farlo prima 250 K Subs You are awesome You are awesome Ok Quindi siete fantastici E bam Andiamo Con questa roba Probabilmente Riusciremo anche a fare Le big visite Perché praticamente 250.000 iscritti E tanta roba Vediamo di fare un altro gioco Di Left 4 Dead E di CS Stop E basta Perché devo aspettare un attimo Che finisca almeno L'altro video di pubblicarsi Quindi aspettiamo un attimo Che finisca di pubblicare il video Ok Le visite ci stanno Eh guarda Quali sono più di 400.000 visite Ragazzi Non arriveremo Praticamente a mezzo milione Come abbiamo fatto di Fairytale Però Fairytale Mezzo milione C'è tanta roba C'è tanta roba Vado CS Stop ragazzi 300.000 Ormai stavamo facendo I big soldi Cioè Poi Ragazzi Guardate I soldi che abbiamo qua Non sappiamo cosa farcene Perché abbiamo 70.000 E a che serve A una beata mazza A nulla Davvero E vabbè Ci sta Ma Chissà Chissà Comunque Dovremo arrivare In teoria A 300.000 iscritti Domani Il prossimo video In realtà Quindi non ci arriveranno mai oggi E abbiamo la possibilità Di fare altri giochi Se vogliamo Quindi andrei Tipo per fare Qualche basic vlog E dovrei avere anche le tag Dovrei avere Quindi basic vlog e tag E poi basta Finiamo così la giornata Perfetto ragazzi Direi che oggi Abbiamo fatto 5 giornate Perfetto Direi che siamo contentissimi Di questa cosa Abbiamo guadagnato Davvero tantissimi soldi Tantissimi subscriber Siamo passati da 200.000 A 300.000 Quindi 100.000 Subscribers a video Quindi più o meno Facendo un conto Siamo ad altri 7 video Per arrivare a un migliore Più o meno Perché poi ovviamente Faremo tante altre cose Ah la carina L'abbiamo sbloccato ragazzi Ancora questa roba Game for fun Giusto Minecraft non c'è ancora Vero Non c'è Non c'è Quindi questa roba È per Exclusive games E Uh Perfetto A proposito Ma Ora che mi chiedo Una cosa interessante Aspetta un secondo Sì io vado un attimo No in realtà Non c'è niente Però se vado un attimo Qui Mi ha detto che Potevo comprare roba E però Tipo Non lo so In realtà Questo è inutile Questo è inutile Forse in futuro Mi servirà qualcosa Però è inutile Per il momento Comunque dicevo Facciamo una carriera Compartiamo anche questo Ragazzi miei Perfetto Wow 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 Game for fun È per noi Ragazzi Finiamo qui l'episodio Con centomila dollari What the fuck Siamo milionari quasi No in realtà Siamo cento No abbiamo soldi e basta Facciamo così E siamo felici Ragazzi vi saluto anche Per questo video Vi ringrazio per avermi seguito In questa nuova puntata Di Tutta il cool Se avete di linea Di consigliarmi E volete sapere I miei paesi Ditemelo qui sotto Nei commenti E ovviamente vi lascio Qui sotto il link Per telegram Se volete andare sul telegram E seguirmi meglio Per quanto riguarda Le cose che faccio sul canale In ogni caso Ci vediamo presto 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 Tipo Non questo Domani Dopodomani In realtà sì Dopodomani Quindi in realtà Il 30 Oh mio dio È finito aprile quasi Il 30 Aprile Per la prossima puntata Di Tube Tycoon Da lì c'è tutto Ciao ciao E al prossimo video